Da 820.000 passeggeri a 350, 470 persone in meno in un solo giorno feriale, a rivelarlo Trenord l'Agenzia dei Trasporti Ferroviari Lombardi, che ha registrato durante l'ultima settimana, caratterizzata dalle misure restrittive per affrontare l'emergenza sanitaria del coronavirus, un calo dell'affluenza del 60%. Dati che risentono in particolare della sospensione delle lezioni negli atenei e nelle scuole e della decisione per molte aziende di attivare per i propri dipendenti lo smart working da casa e che hanno spinto Trenord a ridurre per questa settimana il servizio dell'8% delle sue 2300 corse programmate. Ma gli effetti collaterali del coronavirus iniziano a farsi sentire non solo per treni e ferrovie, ma in generale per tutto il sistema dei trasporti in Lombardia. A Malpensa e Linate, infatti, altre quattro compagnie aeree hanno deciso di sospendere temporaneamente i collegamenti con la città. Sono l'America Airlines e la Delta che interrompono i collegamenti tra Milano e gli Stati Uniti fino al 24 aprile una e l'11 maggio l'altra. A chiudere le rotte anche la Turkish Airlines e la compagnia di bandiera israeliana El Al, che addirittura ha interrotto i collegamenti con tutte le città italiane. Sospensioni di rotta che si aggiungono a quelle delle altre compagnie aeree che avevano già deciso di chiudere i collegamenti con il capoluogo lombardo, come ad esempio la Bulgaria Air e la Korean Air, e che avevano fatto diminuire i passeggeri transitanti per Malpensa e Linate del 32,5% nei soli primi tre giorni di settimana scorsa. In tutto 85.000 passeggeri in meno rispetto agli stessi tre giorni dell'anno scorso. E contemporaneamente iniziano ad aumentare i paesi che stanno chiudendo le frontiere ai passeggeri con passaporto italiano. l'Arabia Saudita, il Bangladesh, il Vietnam, il Qatar e da ultimo l'Oman, che ha lasciato a terra proprio ieri tutti i passeggeri del volo Neos 738 che da Malpensa doveva atterrare a Sala Lal.